Buongiorno a tutti ragazzi, qui Arduino Schenato da Yardforex.com e in questo video voglio mostrare un'operazione su cui sono entrato e che mi permette di spiegarvi un certo tipo di concetto. Questo concetto l'avevo già detto in altre situazioni, in altri video, però davanti proprio all'operazione riusciamo magari a capire meglio, comprendere meglio quello di cui parlo quando sto dicendo di opportunità di trading, sto parlando di rapporto tra risk reward e quindi la reddittività che ha un trade rispetto ad un altro. Allora sono di fronte all'euro dollaro dove ho una posizione long a 1,1820, quindi ho comprato euro dollaro a 1,1820 e a questo punto ho praticamente un trade buy, quindi un trade in acquisto di euro, quindi la mia idea è quella di avere comprato per rivedere nei prossimi giorni un prezzo all'euro dollaro più alto, quindi come fossi un classico commerciante, compro la merce a 100 e cercherò di rivenderla quando va a 150, 200, 300, 400, quello che è. Quindi diciamo che in linea di massima il ragionamento che vado a fare quando vado a fare trading è quello di costruire un progetto di trade, quindi un commercio tra valute che sia profittevole nell'ottica di dire rischio 1 per ottenere almeno una quantità maggiore, quindi 1,5, 2, 2,5, 3 eccetera. Questo ovviamente è quello che viene chiamato nel trading risk reward, è quello che io in ottica da commerciante chiamo rapporto tra costo e ricavo dell'operazione, quindi quando io vado a per esempio in questo caso ad avere uno dei miei segnali di trading che mi indica di entrare, decido poi di fare un certo tipo di operatività quindi di entrare a un certo livello e cerco sempre di progettare il mio trade che abbia un preventivo rapporto tra costo e ricavo che sia a mio favore, quindi che il ricavo sia nettamente maggiore rispetto al mio possibile costo. Il possibile costo però nel momento in cui mi entra l'operazione lo do già per scontato, nel senso che esempio in questo momento mi è entrata l'operazione, quindi sono entrato dentro a questo livello che vedete qui. Il mio stop dell'operazione è qui, quindi significa che nel caso in cui l'euro vada su questo livello io subirò un costo C. Questo costo ovviamente lo programmo, quindi questo costo per me è uguale a un 1% del mio capitale sul conto di trading. Questo 1% lo calcolo prima e deve essere un qualcosa che do per assodato come costo dell'operazione. Già, quindi lo accetto. Quindi nel momento in cui io entro a mercato diciamo che questo 1% del mio capitale che ho nel mio conto di trading lo do già per perso diciamo, lo do già per pagato al mercato, quindi accetto già il costo dell'operazione. Un po' come un commerciante che deve comprare della merce e accetta già, cioè compra la merce per poi rivenderla quando la compra spende i soldi. Ecco, io nel momento in cui entro a mercato, quindi in questo momento storico dove sono entrato a mercato, quindi in questo momento entrato su questi livelli, io ho già speso questi soldi e quindi ho già accettato il mio costo. Ok? Quindi oggi mi si diceva di entrare in Roma, ma entrando un po' meglio, quindi cercando di entrare a una quota minore, quindi detto che questo è il mio input operativo, mentre sia questo, non vado a entrare su questo livello, quindi non entro sul breakout, ma cerco di entrare meglio, quindi all'interno di questa barra. In questo caso quindi, la mia entrata è migliorativa rispetto a qui, di così poco in realtà. Però questo così poco, vi faccio vedere, può essere veramente molto molto interessante, perché se io vado a prendere proprio il tipo di entry, guardate, se io entro qui e lo stop è sempre qui, il primo punto dove potrebbe esserci, diciamo, la presa di profitto più che altro perché si arriva a dei livelli importanti, quindi l'area 1,20, che è quest'area che vi ho segnato qui, è esattamente 1,1. Quindi cosa significa? Che io qui ho rischiato 100, facciamo esempio, o l'1%, e su questo punto dove io potrei avere una inversione, quindi ritornare i prezzi giù, è molto possibile che qui il mercato potrebbe essere, che qui ritorna, perché siamo in un range, io qui so che posso incassare 1 a 1. Se poi lui sale e continua, va bene. Nel momento in cui io ho invece la posizione che è qui, quindi comprata qui con stop qui, quando io arriverò allo stesso livello, avrò un 1 a 2 di risk reward. Quindi invece di uscire qui, se mi torna indietro, rischiando l'1, ottenere l'1, io qui non avrò ottenuto l'1, ma avrò ottenuto il 2. Però cambia così, eh? Cambiando così si ottiene molto di più dall'operazione, e questo lo potete vedere direttamente se io vi faccio vedere, per esempio, il trade che abbiamo fatto sul platinum, questo è proprio il trade in atto, entrata a 18.20, uscita a 17.36, l'1% di rischio, vedete che l'RR preventivo, uscendo proprio in area 19.85, quindi nella zona 1.20, si ha un risk reward di 1 a 2. Se io metto invece, togliendo qui, l'entrata a breakout, e quindi a 18.54, guardate come cambia, da 1 a 2 va a 1 a 1, come vi ho fatto vedere. Quindi quando io progetto un trade, questo è il size calculator che diamo in scaricamento a tutti i nostri iscritti al platinum, ecco che è molto importante capire il trade. È ovvio che questo sarebbe un preventivo, quindi io vado, entro a 18.20, cambia completamente ed è un'uscita preventiva. Perché è un'uscita preventiva? Perché io qui so che qui potrebbe esserci il problema, no? Su questa zona potrebbe esserci il problema che mi ritornano i venditori. Però se io esco qui con un'entrata buona, esco 1 a 2, non 1 a 1. Nel lungo periodo questo è molto importante, perché da commerciante devo sapere a quanto vendo la mia merce, se so che tendenzialmente tendo a venderla a una cifra più alta di quanto la vendo, è più facile che a fine anno io, anche se ho della merce in magazzino uguale degli stop loss presi, avrò più possibilità di avere un più alla fine dell'anno. Quindi con l'idea però che questo può essere un punto dove lui può invertire, perché la mia idea non è quella di uscire lì, ma è di uscire su queste zone. E se io vi faccio vedere quanto vale l'area 1,24 e 47, se vado a prendere la mia uscita che vorrei fare realmente, qua siamo che ho rischiato 1 per ottenere 7,5. Questo è diverso, avete capito? Quindi la preventiva, che è questa, comunque mi paga molto, ok? Il mio preventivo. Nel caso in cui la posizione va dritta e esce a costo, per me non è un problema, perché come vi dicevo all'inizio, questa è merce che ho comprato per il mio magazzino, quindi io adesso, quando lui mi ha preso l'operazione, per me, diciamo in linea di massima, è già un meno 1 nella piattaforma, è già un meno 1 nel mio conto, perché io ho comprato la merce in questo momento. Quindi io ho subito già un costo. Se poi mi pagherà lo vedremo. Questa è nell'ottica dell'accettazione del rischio e nell'ottica quindi di ragionare da veri e propri commercianti non di merce reale, ma di valute, che è quello che noi facciamo e cerchiamo di trasmettere da tanti anni. Bene, direi che per oggi è tutto, spero di essere arrivato con questo video, vi chiedo di lasciare un like, un mi piace su questo video, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e di seguire tutti i video successivi e anche passati. Un saluto a tutti, grazie, buona giornata, buon trading simple.